dal X-File, è già in pista, è già pronto a scatenare tutta la sua potenza sulla pista della Pulling Arena di Tiene nel frattempo sono ancora disponibili le copie del tipo di caldo, le trovate direttamente dalle nostre ragazze, le nostre bufaline e dal team del Landini che le porta direttamente tra di voi, 10 euro e vi giudicate tutte quante le immagini della giornata di gara di oggi ma torniamo proprio in pista per la gara, per la finalissima della categoria numero 35 X-File, luce verde, può partire quando vuole, andiamo! Arrivato! X-File!